Manutenzione da rivedere nei pressi di Ponte Buriano, eccola qua la vegetazione documentata dalle nostre immagini che a quanto pare non viene curata da un bel po' di tempo, qui siamo sul ciglio della strada in uno dei punti all'interno del paese, vedete c'è questa vegetazione proprio a bordo strada che non viene rimossa da tempo, ma è una situazione che riguarda varie zone di Ponte Buriano, qui siamo ancora in un altro punto, la vegetazione è ancora più fitta rispetto al tratto che vi abbiamo mostrato in precedenza e vedete che continua per un diverso tratto di strada e questo insomma mette in evidenza come anche frazioni peraltro di una bellezza evidente, riconosciuta universalmente come Ponte Buriano, meriterebbero una manutenzione diversa, qui c'è anche un immobile transennato nel punto in cui la strada si restringe, eccolo qua un altro tratto sempre di Ponte Buriano, sempre solita vegetazione che non viene rimossa, qui c'è probabilmente un insieme di competenze forse tra pubblico e privato anche se essendo nei pressi della strada diremmo che sono più competenze pubbliche, qui siamo nei pressi proprio del cartello del Ponte che ci conduce proprio al passaggio sull'Arno e anche qui vedete la vegetazione è piuttosto folta e stesso di casi proprio nei pressi del Ponte, ci sono ancora queste transenne laterali e c'è sempre la solita vegetazione. Quindi in conclusione Ponte Buriano merita un intervento di manutenzione ordinaria per rimuovere tutte queste erbacce, questa vegetazione che rischia poi anche di infastidire la circolazione stradale e comunque è un qualcosa che serve agli stessi abitanti di Ponte Buriano.